Sessualità e disabilità senza tabù, ma con il giusto approccio, una corretta formazione e stando accanto a persone e famiglie che vivono questa realtà. È il senso dell'incontro organizzato a San Giorgio dalla Fondazione Varrone nell'ambito della giornata nazionale del sollievo. Amami come vorresti essere amato. Io amo essere amato, che è una cosa bellissima ed è giusto che noi restituiamo a loro questo tipo di sentimento. Ad incoraggiare una riflessione sul tema era stato il presidente della Fondazione Varrone, Mauro Trilli, salutando le numerose associazioni di volontariato presenti a San Giorgio. Una presenza che arricchisce rieti di servizi ed opportunità, ha rimarcato il sindaco Daniele Silibaldi, grazie anche al supporto che la Fondazione Varrone garantisce ai progetti del terzo settore. Terzo settore per il quale le fondazioni come Lavarrone sono un interlocutore decisivo, come ha sottolineato la presidente del forum Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese. Ad entrare nel vivo dell'argomento sono stati i relatori della tavola rotonda, la professoressa Moira Sannipoli dell'Università di Perugia, lo psicoterapeuta e sessuologo Massimo Laforgia, Maximiliano Olivieri, Personal Life Love Coach e Anna Piero Bon, operatrice OEAS, ovvero emotività, affettività e sessualità. Oggi abbiamo vissuto un'esperienza emotivamente coinvolgente, un'esperienza molto forte, un'esperienza che ci ha fatto capire che si può parlare in maniera semplice, chiara, trasparente anche su argomenti che spesso creano tabù. La fondazione Lavarrone ha istituito uno sportello dedicato proprio a questo, uno sportello che andrà implementato a disposizione di tutte le associazioni del volontariato che vorranno usufruirne, perché servirà proprio a migliorare un po' gli standard anche qualitativi della nostra assistenza sanitaria e sociale. Diverse e pressanti le domande del pubblico in sala che hanno animato il dibattito. L'ultima parola se la sono presa e gialisse con le loro canzoni. Non solo fiumi di parole, ma una ricerca di senso e di amore che accomuna tutti. Fiumi di parole, fiumi di parole, tra noi, prima o poi, ci portiamo via.